ANSA, Vicenza, 28-8, Italian Exhibition Group Spa, la società nata nel 2016 dall'integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza, sbarcherà a Piazza Affari entro un anno. Ad annunciarlo oggi a Vicenza, a margine dell'apertura della nuova rassegna Move, salone dedicato al fitness e al benessere, Matteo Marzotto, vicepresidente esecutivo di Ieg. La quotazione in borsa è prevista nel secondo semestre 2018, ha detto Marzotto precisando che la decisione finale spetta ai nostri soci, ai quali noi proporremo tale possibilità. Il prossimo CDA di Ieg Spa è in calendario per il prossimo 28 novembre, dopo l'approvazione del piano industriale. Il nuovo gruppo fieristico ha chiuso il 2016 con un fatturato di 124,8 milioni, un EBITDA di 21,9 milioni, e un risultato netto consolidato di 6,6 milioni.